Ciao mister, buongiorno. Prima settimana dall'inizio della sua avventura in Granate in cui ha una varietà di scelte su cui prima probabilmente non poteva disporre. In questa fase un po' le scelte vengono ancora influenzate anche dal mercato, cosa che non succederà più finalmente dalla prossima settimana. Che settimana è stata in vista del primo impegno esterno della stagione? È stata una settimana impegnativa perché c'è stato questo coinvolgimento da parte di qualche altro ragazzo che ci è venuto a aiutare e quindi abbiamo dovuto arrotolare un pochino quelli che erano i filmati, quelli che erano gli obiettivi comuni per quel che concerne l'aspetto puramente tattico, quindi si è dovuto un pochino rallentare, però avendo una settimana a disposizione si è fatta volentieri. È un pochino più faticoso da parte nostra, inteso come staff, andare a lavorare su cose che si sono già superate, però avendo questo avvicinamento di altri giocatori è necessario che si vada a richiamare delle cose vecchie per chi magari già ha avuto modo di allenarle e quindi abbiamo un po' allentato in questa direzione. Poi Dulcis in fundo per non farci mancare nulla, mercoledì che era la giornata dove si poteva lavorare in maniera importante, all'orario dell'allenamento si è scatenato un temporale e non ci ha permesso di andare a lavorare in quella direzione, però tutto sommato sono contento perché insomma alcuni... Ieri non c'è stato, ieri non c'è stato, ieri era giovedì, credo, io mi sto perdendo un pochino nelle settimane, però è stato mercoledì che è stata una giornata un po' frenetica, si era preparato tutto, però non ci siamo potuti allenare. Come dicevo insomma in questi ultimi 24-48 ore siamo andati a lavorare sulla partita, insomma è quella che ci sta più a cuore, però sono abbastanza soddisfatto di quello che si è preparato, quello che si è riuscito a dare ai ragazzi. Ciao mister, volevo chiederti, continua ad avere un solo attaccante per il momento, quindi immagino che insomma la domanda implicito sia scontata, giochi lui in attacco, e verde, callon, braff, insomma c'è possibilità però dietro la punta di giocare in modo diverso, cioè con i due esterni e Valencia insomma oppure con 4-2-3-1. Hai già deciso quale sarà l'idea iniziale della Salernitana? Domani mattina che si fa l'ultimo punto su quella che è stata anche gli ultimi dettagli sull'aspetto puramente tecnico, tattico della partita, andremo a scegliere chi ci può dare più garanzie dall'inizio e chi ce ne può dare più in corso d'opera, questi sono dettagli che andremo a valutare nella giornata di domani. In linea di massima ho un pochino un'idea ben precisa però mi voglio prendere queste altre 24 ore per decidere e di conseguenza anche il modulo, sì, anche se in linea di massima è quello lì, non è che si dista molto da quella cosa, però devo capire bene chi mi può dare delle garanzie perché non c'è da curare solo una fase, ma c'è da curarne più di una e quindi ho bisogno di avere un pochino più di continuità nel modo di proporre calcio, nelle due fasi di gioco, di avere un pochino più di equilibrio. Mister, buongiorno, ben trovato. A proposito del mercato che ovviamente orienta le scelte, avete fatto una scelta precisa lasciando a casa due giocatori che sulla carta sono di quantità, cioè Mamadou Koulibaly e Legoschi, in funzione credo di una scelta tattica che lei ovviamente non svela ancora ma che potrebbe essere precisa riguardo almeno numericamente la composizione del centrocampo. I giocatori invece che sono arrivati di recente, al di là di Adelaide che non ha potuto utilizzare per un contrattempo come già ci spiegava l'area comunicazione, Soriano e Teglio, le caratteristiche di questi due giocatori all'interno del suo modulo. In che modo, in quanti ruoli, vari ruoli possono essere utilizzati? Grazie. Allora, sul discorso dei due ragazzi che hai menzionato, che sono Koulibaly e Legoschi, io sono straordinariamente contento di quello che hanno fatto con me e li ringrazierò per sempre perché mi hanno dato una disponibilità incredibile in un momento particolare e difficile. Poi c'è da fare delle scelte e queste scelte ricadono in virtù di quello che è stata l'ultima settimana, in virtù del mercato che si è orientato in una direzione e chiaramente insieme al direttore si cerca di fare meno casini possibili e quindi si è cercato di arrivare a un consolidamento di delle scelte precise e in maniera concordata siamo arrivati a questa roba qui. Insomma, di non puntare su questi due giocatori che vi ripeto sono giocatori affidabili però si è voltato pagina, si va in un'altra direzione, poi se è giusto o sbagliata sarà il tempo a dirci questo. Sul discorso di Soriano e Teglio sono due centrocampisti complementari. Teglio è un giocatore molto dinamico, non ha la stessa qualità tecnica che ha Soriano, che Soriano si contraddistingue rispetto agli altri perché è un giocatore pulito, un giocatore ordinato, un giocatore che sa dare del tuo al pallone però copre meno spazio rispetto a Teglio. Sono due giocatori che si completano e quindi sarà a me capire in un momento ancora di conoscenza completa chi mi dà più garanzie in una certa direzione. Ciò non toglie che, come è stato nel recente passato, io non ho preclusioni, non ho paura di buttare dentro gente perché il calcio è bello, è articolato, è complicato ma poi rimane comunque un gioco facile, un gioco semplice, un gioco semplice che bisogna fare le cose con naturalezza e con anche un pizzico di incoscienza, di leggerezza. Non mi preoccupa, non mi pesa questa roba qui però è chiaro che sono pensieri che devo fare e lo posso fare prima della partita o addirittura durante come è successo in queste ultime due partite. Mister, buongiorno, invece volevo chiederle di Daniluk, è stato protagonista nell'ultima partita, in queste ultime ore al centro di Voci di Mercato, lei è stato molto onesto e chiaro per quel che riguarda Koulibaly e Legoschi, qual è invece la posizione su Daniluk, se è stato già discusso con il direttore sportivo, se dovrà essere sacrificato anche lui per far spazio ad altri innesti e se si è fatto un'idea di numericamente quanti elementi ancora dovranno arrivare, grazie. Allora, su Daniluk il discorso è molto semplice, Daniluk è un giocatore stipendiato dalla Salernitana, un giocatore della Salernitana e chi vuole Daniluk deve cacciare i soldini, non può pretendere di prendere Daniluk in prestito o come scambio, Daniluk è un giocatore forte, i giocatori forti vanno pagati, se c'è la condizione che avvienga a questo aspetto qui Daniluk può andare via perché ci danno i soldi e con quei soldi li andremo a investire, se non c'è questa situazione qui, noi ci si tiene Daniluk, è facile come faccenda, non è complicata e Daniluk questo lo sa, gli è stata proprio puntualizzata questo aspetto qui, per cui non c'ho da parlare con Dani perché è qui da quando è arrivato sa che c'è questa condizione, per cui lui sta facendo bene perché mi sta dando garanzie, perché è un ragazzo intelligente, ragazzo per bene e soprattutto un ragazzo che dà disponibilità, un giocatore che vuole imparare anche cose che magari in un futuro non gli serviranno, però vuole imparare cose differenti e lui sta dando quella disponibilità. Per me è Daniluk, è un giocatore della Salernitana e per me da qui a quando sarà della Salernitana, lo reputo un giocatore della Salernitana, forte, per cui me lo tengo bene, se poi arriva chi che sia e ci porta i soldi quelli veri, allora si prende in visione altri aspetti. Questo sulla carta è questo, poi siamo nel mondo, siamo sotto il cielo, può accadere di tutto, ma mi auguro che sia questo, che si riesca a tenere questo tipo di comportamento e credo che sia così perché è lo stesso pensiero del direttore. Rispondendo, anche riprendendo quello che era la domanda del collega, quanti numericamente sono i calciatori che lei ha in mente per poter completare questa rosa e poi mi aggiungo anche all'essenza di Legoschi e di Mamadou Koulibaly, se nell'idea anche del 4-3-3 o di sottopunta, Tonghia può essere un calciatore che lei può vedere sia da mezzala o eventualmente appunto da sottopunta, grazie. Allora, sì, Tonghia è un giocatore che può svariare anche in quell'altra situazione, nel centrocampo a 3 o sottopunta, il giocatore ha talmente tanta forza e può essere utilizzato in più ruoli, però va specializzato in un unico ruolo, in questo momento qua bisogna fare di necessità virtù, per cui lo utilizzo dove credo che in questo momento qua si abbia la necessità di sfruttare quel tipo di caratteristica, quindi posso sfruttare da attaccante esterno, posso sfruttarlo da mezzala o addirittura da tre quarti. Siccome anche lui lo abbiamo avuto solo questa settimana qui, perché oltre a Soriano e a Delaide si è aggiunto anche Tonghia, perché anche lui è vero che è da tanto che è con noi, ma la prima settimana di lavoro è stata effettuata neanche lunedì quando siamo partiti, lui ha iniziato con la squadra il martedì, per cui c'ha tre allenamenti con noi, quindi c'è da comprendere bene che tipo di intelligenza tattica può darmi questo ragazzo, un ragazzo umile, un ragazzo che ha una voglia strepitosa e ce lo farà vedere, però devo mettere una condizione che possa rendere, chiaramente dove credo che oggi io ho bisogno, sull'aspetto numerico noi c'è da completarlo all'organico, noi dietro siamo contati in questo momento, ci manca un po' di roba come centrale di sinistra e poi c'è da rientrare comunque un altro ragazzo che è infortunato, che è Ghiglione e quindi c'è da aspettare anche lui, però ci vorrebbe anche, e questo lo sa il direttore, anche un altro centrompista, perché Amatucci è impensabile e possa giocare 40 partiti e quindi c'è bisogno anche di un giocatore con quel tipo di caratteristica. Ma questo discorso che il direttore credo l'abbia fatti, a me sicuramente, ma credo l'abbia fatti velatamente capire anche a voi. Mister, buongiorno, volevo chiederle sia come inquadra, anche se l'ha visto per pochi allenamenti, Renna Delaid, quindi che tipo di caratteristiche e di apporto quindi può dare alla squadra e poi ovviamente che valutazione dà del Sud Tirol che alla prima ha vinto col Modena, una squadra che comunque ha fatto anche campionati di medio-alta classifica in Serie B fino a ora. Allora, mi fa piacere che si parla finalmente del Sud Tirol, perché non ci dimentichiamo che noi domani c'è da giocare una squadra, non forte, una squadra fortissima, perché non ci si deve far, come dire, condizionare quello che è il nome della squadra che ha poco blasone, è a pari del Cittadella, poco blasone, ma è il nome dei giocatori in Serie A, perché Masiello ha giocato in Serie A tanti anni, Cepitelli viene dalla Serie A, Kurtic, giocatore straordinario, Casiraghi, insomma, diversi tanti, Molina, tanti altri giocatori e giocano nel Sud Tirol, quindi sono sottovalutati perché giocano nel Sud Tirol, ma il Sud Tirol è una squadra forte ragazzi, l'altro giorno ha giocato contro il Modena, che una signora squadra ha messo in difficoltà in Napoli due settimane fa e l'ha vinta alla fine, però una squadra ha avuto il 70% di possesso pallone, una squadra che sa palleggiare, è una squadra che sa i momenti, sa leggere i momenti quando venire in verticale, squadra verticale sa palleggiare, squadra pericolosa, squadra fisica e tecnica, per cui c'è da mettere in piano e comunque si va a fare una partita di pallone in un ambiente che sembra bello perché non c'è la curva, perché c'è un campo, ma dentro ci sono giocatori forti, noi c'è da capire questa cosa qua, noi all'interno lo sappiamo che domani ci si presentano delle difficoltà e bisogna essere bravi a creare queste difficoltà, a tramutarle in opportunità, però c'è da capirle anche noi, tante domande sul mercato, io domani so concentrare su quella che è su Tirol, sul discorso di Adelaide, Adelaide purtroppo ha avuto questo contrattempo, Adelaide è un giocatore straordinariamente bravo che forse se non avesse avuto quel tipo di infortunio, quei tipi di infortunio non c'entrava nulla nella Sernitana, per quanto è bravo lui e per il recente passato suo, lui è stato un giocatore, è stato anche nazionale francese, insomma un giocatore chiacchierato, purtroppo in carriera subentrano questi tipi di infortuni e l'ha limitato nella crescita della carriera importante che si era evidenziata, quindi è un giocatore forte, però ora è chiaro che si trova in un contesto nuovo, un giocatore che deve capire che noi siamo una squadra che bisogna andare a curare quello che è l'ordine e deve mettere a disposizione quella sua caratteristica, la sua qualità che è tanta alla squadra, quando lui avrà fatto questo ci sarà spazio sicuramente perché i giocatori forti mi hanno fatto giocare, lui è un giocatore forte, però vedi ha fatto due allenamenti con noi, ha avuto un po' questo problema muscolare che era immaginabile potesse accadere questo, quando arrivano alla spicciolata non si sa il vissuto recente e quindi si rischia di andare incontro a questi tipi di problemi, mi auguro che sia l'ultimo ma non sarà l'ultimo sicuramente perché poi le partite vanno preparate, c'è bisogno di una certa intensità nelle settimane, chi ha qualcosa in meno a livello di preparazione ti presenta il conto e Adelaide ce l'ha presentato. Salve, prima ha parlato di Amatucci, di giovani, è arrivato recentemente anche Ruggeri, abbiamo sentito l'intervista, ha detto appena mi ha chiamato il mister quindi subito ho accettato quindi di venire a Salerno, la primavera della saneretana, quella di Luca Fusco, ha battuto 5 a 0 il Modena, ci sono giovani interessanti che in futuro potremmo poi vedere in prima squadra? Io ero alla partita, ho visto la partita, ero lì al caldo su una tribunetta e ho visto la partita per valutare questo perché funziona così, l'allenatore della mia squadra e vede i ragazzi piccoli, ci sono due o tre che si sono allenati per 20 giorni con me, era rispettoso da parte mia a dargli considerazione a quei ragazzi e ci sono, ne ho visto anche qualcun altro, c'è qualcun altro che ha da modificare ancora l'atteggiamento per cui è sotto traccia questa roba qui, ha la fortuna di collaborare con Stefano, con l'Antuono che mi tiene informato su quelli che sono anche i passaggi di comportamento dei giocatori, io raccomando sempre i ragazzi che sono in prima squadra e vanno in primavera e sono gli ultimi che arrivano in primavera, non sono i primi, l'obiettivo dei ragazzi che alleniamo in prima squadra e vanno in primavera sono gli ultimi a entrare nello spogliatore, sono i primi a entrare nello spogliatore, sono gli ultimi a dare via, devo dare l'esempio, non sono quelli lì che hanno la puzza sotto il naso perché sono allenati in prima squadra, si sentono in dovere di fare cose che non va bene, loro sono i primi che devono fare le cose giuste, per cui i giocatori di primavera ci sono, il tempo, piano piano andremo a lavorare con questi ragazzi, già domani se ne convoca uno che già è stato con noi 20 giorni, che è di Vico, per cui se ci sarà la possibilità, non ho preclusioni, anzi mi fa piacere, il mondo è dei giovani, il mondo va verso la direzione dei giovani, i giovani mi hanno fatto giocare, anche che sono inesperti, sì, mi dilungo un pochino, come si accumula l'esperienza? Prendendoli in considerazione, facendoli giocare, così accumula l'esperienza, questo non significa che giocano domani, però devono stare in contesti dove devono sudarsi la pagnotta, che si chiami di Vico, si chiami tra virgolette sepe, io non faccio preclusioni di nulla, perché sono stato imparato così, a me mi hanno insegnato così, se ho detto in Serie C avevo 16 anni, non perché ero simpatico all'allenatore, perché forse meritavo di giocare e mi hanno scelto a 16 anni di giocare, gioca contro a Vestuti, ieri sono andato a Vestuti per vederlo, sono stato fuori, era ancora la luce illuminata, le sere alle 10 erano tutti illuminati, non so cosa ci fanno, e quindi mi fa piacere vivere questa roba qui, quindi noi c'è bisogno di questo trasporto, ma senza la giusta carica da parte dell'esterno, noi si fa poco, noi c'è bisogno di quello che è successo l'altro giorno, e anche da parte vostra c'è bisogno che questi ragazzi sentano che voi siete verso il far bene per la serenitana, tutto qui, non c'è altre storie.